Assettare le vele! Assettare le vele! Alla le braccia stacca sopra vento! La cima del pannello! Che stai facendo? Che stai facendo? No, tu che stai facendo? Tu che stai facendo? No, tu che stai facendo? Che stai facendo? Il capitano dà gli ordini? Il capitano infatti sta dando gli ordini Mia la nave, io capitano Ma mie le carte! E allora tu? Cartomatte! Finitela! Non vi sopporto più! Questo è un ordine! Siamo in tesi! Siamo in tesi!